Rischiare, provare, correre, giocarsela Il caso Renzi, capitolo 1, finanziamento illecito Sotto indagine della procura di Firenze ci sono 3,5 milioni di euro Che la fondazione Open avrebbe raccolto dal 2014 al 2018 La tesi della procura è La fondazione era di fatto un'articolazione del PD Dunque chi donava stava finanziando un partito aggirando in questo modo la legge 92 mila pagine di inchiesta Oltre 3 milioni e mezzo di euro passati al setaccio e 15 indagati La procura di Firenze ha chiuso così l'inchiesta sulla fondazione Open I parlamentari Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti Sono indagati per finanziamento illecito ai partiti Le altre persone coinvolte, manager, imprenditori, professionisti Sono accusate a vario titolo di finanziamento illecito ai partiti Riciclaggio, traffico di influenze e corruzione Ma già l'idea che si debba partire dai suoi errori In un momento in cui c'è un'inchiesta in cui sono state violate nel tempo ripetutamente Delle leggi dello Stato non da parte di Matteo Renzi Questo ovviamente c'è un'inchiesta aperta Vedremo come andrà avanti, durerà anni probabilmente il processo Ma sicuramente sono state violate nei due anni di inchiesta fino ad oggi Dai magistrati delle regole Dai magistrati o comunque da chi in qualche modo ha fatto trapelare le notizie dell'inchiesta Perché c'è stata una fuga di notizie anche quando c'era un segreto d'ufficio da rispettare I PM mettono a fuoco anche alcuni episodi specifici Come l'affitto di un aereo privato usato da Renzi per volare da Roma a Washington nel giugno del 2018 Quel volo è costato alla Fondazione Open 130.000 euro Renzi può così commemorare Robert Kennedy Da uno scambio di messaggi contenuto nelle carte processuali Emerge la sorpresa per quest'operazione anche di Luca Lotti e Alberto Bianchi Fedelissimi di Renzi Ma ha perso la testa? Dice il presidente della Fondazione Open a Lotti E l'ex ministro risponde Non ho parole Io gli ho detto che senza copertura non si può Questo episodio, secondo la Guardia di Finanza Rivela la preminenza di Matteo Renzi rispetto agli impegni economici di Open Per quanto riguarda il forcaiolismo e il giustizialismo a rendere queste cose Tutti lo fanno a turno e tutti si scandalizzano a turno Quindi non avranno la mia solidarietà anche quando c'è qualcosa di particolarmente scorretto Perché io voglio solo ricordare che Renzi ha votato l'autorizzazione a procedere per l'ex ministro degli interni Voglio solo ricordare per quanto riguarda i giornali il caso Morisi E quindi qui nessuno può dare al fatto lezioni sulla realtà Per cui si prendono dalla magistratura le carte e si sbattono in prima pagina Lo fanno tutti Se sono documenti pubblici in quanto sono a disposizione di tutti Perché la Guardia di Finanza li ha allegati all'indagine Non solo è lecito ma devo dire è doveroso Sui giornali sono finiti anche gli imbarazzanti compensi ottenuti da Renzi Per tenere conferenze da parte di aziende private o stati dittatoriali Le notizie hanno una rilevanza politica ma non erano rilevanti ai fini penali Allora chi ha fatto uscire gli estratti conto di un senatore? E cosa è più sacro? Il diritto di cronaca o la privacy di un parlamentare quando non ci sono in ballo reati? Questa storia dell'immunità la diamo una notizia così ci rimangono male Io non chiederò l'immunità Anzi Quando mai, se mai, arriveremo in aula A votare per l'acquisizione del materiale Perché lei sa che mi hanno preso della roba dal telefonino E siccome sono parlamentare non potevano prenderla Sono degli sms il conto corrente Però se ho capito di fare i magistrati che erano presa da altri interlocutori No, secondo me questa cosa è illegale ed è incostitizionale Io capisco che quando c'è un atto giudiziario depositato Qualunque giornalista possa andare a leggere cosa hanno allegato i magistrati E poi io non lo farei pubblicare sui giornali qualcosa Prima che sia iniziato il processo Ma qua parliamo di indagini Che la cosa ho letto io Sono partite dieci anni fa Quando non era indagato C'è una persona che è registrato Non sono 10 anni fa No, si parlava Siamo talmente decisivi Che tutta la campagna di queste ore Serve a cercare di indebolirmi per il Quirinale La cosa che trovo impressionante in questa vicenda Non è tanto la trasparenza sui miei conti La cosa che un po' colpisce Perlomeno colpisce me Guardi non è neanche la pubblicazione Che è discutibile Ci sono polemiche Ci sono tante polemiche C'è un tema Ma lo vedranno quelli che si occupano di queste cose A me colpisce come sia stato acquisito il conto corrente Cioè in altri termini Io so di non aver violato nessuna legge Spero che chi indaga E fa bene a indagare perché è giusto che indaghi Su di me non abbia violato la legge Acquisendo in modo illegittimo il conto corrente Prima ancora che adesso la magistrura vuol dirimere se Open e cose Ma quando un segretario di un partito Davanti agli occhi di tutti Si fa la sua cassa personale Non quella del partito Ma si è mai vista una cosa così? A Pierluigi Bersani vorrei dire Che prima di parlare di me E di finanziamento alla politica Dovrebbe avere il coraggio di dire Come mai lui prendeva i soldi legittimi Ma soldi d'arriva a Taranto Se anziché finanziare lui e la sua campagna elettorale Quei soldi fossero andati per fare delle operazioni per Taranto E per l'ambiente, per il clima a Taranto Vede Giletti? Io a Taranto i soldi non li ho presi d'arriva Come ha fatto il signor Pierluigi Bersani Io li ho portati con il mio governo Esiste per me una questione etica fondamentale Per cui non si possono mischiare gli affari con la politica Insomma, Renzi è un uomo politico che si occupa anche d'affari O un uomo d'affari che si occupa anche di politica? E tanti diranno Matteino, ma perché non lasci le conferenze o la politica? Una delle due Ed è legittimo Quello che però io voglio dire è che questo non è illegale Perché io non sto arrumando un soldo ai cittadini Dalle carte degli investigatori sono emersi anche i compensi Non oggetto di indagine, quindi legittimi, di Matteo Renzi In totale dal 2018 al 2020 il senatore ha guadagnato oltre 2 milioni e mezzo di euro Buona parte di questi compensi derivano dalla sua attività di conferenziere In questo caso la questione non è penale ma è di opportunità politica Le regole del senato consentono che uno quando è senatore faccia il conferenziere Non so se si è previsto anche che faccia il lobbista Ma insomma, che idea si è fatta lei professore? Sono fatti di Renzi Se gli danno milioni per una conferenza Beato lui Anche se è un senatore della Repubblica pagato con i soldi dei contribuenti? Beh, perché un senatore della Repubblica, anche io facevo conferenze quando ero deputato Soltanto che mi davano 100 mila di euro e non un milione Anche farsi pagare da uno stato straniero, un regime dittatoriale Non so Sono fatti i suoi Cosa c'è? Per le sue conferenze, per la sua attività di public speaker riceve dei compensi da enti, stati esteri Tra cui anche quello saudita, lo ricordiamo Le chiedo, è opportuno secondo lei? Io non ho mai violato le regole Rispetto alla questione, diciamo, di opportunità che lei pone E' evidente che finché ci sarà la possibilità di fare l'attività di public speaking E finché ci sarà, da parte mia, un ruolo non di membro del governo Io continuerò a fare ciò che la legge consente Il punto è che lui è in carica E nel mondo chiunque si è in carica non fa le conferenze Ha dato un altro colpo Questo è il fatto Per la gente è la credibilità della politica Perché quando passi dal 40 al 1 E passi da fare il Presidente del Consiglio A fare un po' di agitpro per l'Arabia Saudita E queste cose qui E' una disillusione della politica E' un colpo alla credibilità della politica L'idea che la politica ha qualcosa che fare con la coerenza Con la serietà, con la linearità, con la moralità Da un punto di vista politico è inaccettabile Da un punto di vista di opportunità, etica Innanzitutto è inaccettabile che non ci siano leggi di conflitti di interesse ancora in Parlamento E lui lo possa fare Perché lui è vero che lo può fare Perché alla Camera e al Senato in Italia Non ci sono leggi che impediscono a un senatore Di prendere soldi da enti finanziati da fondi sovrani esteri Però quello non c'è Spiegai allora che chi sta al governo non può arricchirsi Perché ha un'indennità fissa per legge Ma invece chi sta al Senato Chi sta in Parlamento, chi sta nelle istituzioni Ha delle incompatibilità Il parlamentare europeo, lei lo sa bene perché ha fatto la parlamentare europea Non può fare altre cose Perché il nostro Renzi invece persiste secondo te? Adesso non può più Perché ammetterebbe di aver fatto un errore etico gigantesco E quindi si arrampica sugli specchi Così come si è arrampicato sugli specchi Quando ha detto alla tua collega Sì, io ho detto che non bisognava arricchirsi con la politica I politici che si arricchiscono Evidentemente c'è qualcosa di strano Ma io lo dicevo soltanto per chi ha il governo È una sciocchezza Il parlamentare italiano può fare l'architetto, l'avvocato, il professionista Nel mio caso faccio delle conferenze all'estero Su cui pago le tasse E contribuisco alle casse dello Stato Ci mancherebbe altro che non paga le tasse Mi scusi adesso Se no mi dice che con come No, questo lo dico così Se era una battuta non ha fatto ridere Io pago le tasse Le posso garantire che molte persone Che sono stupite da questa grande polemica Che c'è nei miei confronti Mi chiedono se io avendo fatto attività all'estero Pago le tasse all'estero No, ho le tasse come ovvio in Italia Ho la società in Italia Questo perché uno che fa attività all'estero Può pagarle all'estero Quindi lei che ha una cultura internazionale A differenza di altri Sa che cosa mi riferisco Sì, e conosco molto bene anche l'Arabia Saudita Per esempio Una dittatura che non rispetta Nei diritti delle donne Nei quelli degli uomini Nei quelli degli dissidenti E lei sta sul libro paga dell'Arabia Saudita It's a great pleasure and honor To be with the great crown prince Mohammed bin Salman Thank you so much for this opportunity And for me it's particularly a privilege To discuss with you about Renaissance Because I'm not former prime minister I'm former mayor of Florence The city of Renaissance Giannini non sa assolutamente nulla dell'Arabia Saudita Come è evidente Lo dimostra il fatto che Ovviamente sarebbe interessante parlare Lei ne sa molto di più No, no, no Guardi mi faccia la carità Per la carità di patria Non mi dica che le donne possono adesso guidare E che l'Arabia Saudita è il nuovo rinascimento L'ha detto lei Mi fa parlare a me No, no, su questo non posso adesso aprire Ma non glielo sto dicendo Gruber Le faccio un disegnino Mi fa finire Giannini non sa assolutamente niente di Arabia Saudita Né io voglio parlare di Arabia Saudita Giannini pone un tema etico su di me E dice che le persone che fanno politica Hanno dei doveri etici e morali diversi Infatti devono presentare la loro dichiarazione dei redditi Dire quante case hanno, come fanno Quello che è fondamentale dire E' che nel mio caso Hanno preso in modo illegale Con un hackeraggio di Stato Detto questo Quello che dico a Giannini Perché per me la politica E' peccato venuto fuori che lei si fa pagare dall'Arabia Saudita Era già fuori Gruber Allora qual è il punto? Mi scusi Rezzi Le svelo un segreto Lei ci ha fatto due trasmissioni No, non ci ho fatto due trasmissioni Perché lei è molto importante Ma non così importante Ma sicuramente c'è un problema di etica e politica Di fronte a queste cose Allora io però devo chiudere sempre che mi litigiano Finisco sulla domanda Sulla questione politica Visto che è separato di tutto Tranne che di politica Io di quello che faccio Rispondo di fronte ai cittadini Chi vorrà votarmi mi voterà Chi non vorrà votarmi non mi voterà Quello che è fondamentale È che questa campagna di odio Nasce per un motivo molto semplice Perché noi da soli Abbiamo scelto Dieci mesi fa Di fare quella che voi ritenevate Una pazzia Di aprire una crisi Anche lei quando ha detto Lei io ricordo le sue trasmissioni E qui quando diceva Non si apre una crisi in piena pandemia Oggi c'è Draghi Non c'è Conte Io sono felice di questo Tutto il resto Li lascio parlare E sono tranquillissimo Quanto a Giannemi Gli spiegherò privatamente Gli spiegherò privatamente Le cose che non sa No no guardi Renzi Recentemente un atto di citazione civile Ma come siete ossessionati da me ragazzi Ma come siete ossessionati Marco Travaglio Tu oggi scrivi che c'era un piano dello staff di Renzi Del 2017 Quindi post referendum Che lei senatore ha perduto Per distruggere te e altri colleghi E i 5 stelle Cosa c'era esattamente dentro questo piano? Io lo scrivo perché cito testualmente Tra virgolette quello che c'è scritto in questo piano Che viene inviato da Fabrizio Rondolino Giornalista collaboratore dello staff renziano In quel periodo A Renzi Eccoti un primo appunto Sulla struttura di propaganda antigrillina Che ho preparato con Simona In questi giorni Simona è la moglie di Rondolino Che è una nota produttrice televisiva Che lavora molto con la RAI Renzi pochi minuti dopo Inoltre a questa e-mail A Marco Carrai E in questa e-mail C'è un documento In cui si racconta Come deve strutturarsi Questa agenzia Di informazione O di disinformazione Seconda dei gusti Per non tanto riconquistare L'elettorato grillino Ma per spingerlo a non votare più Non dobbiamo controargomentare Sulle loro proposte Dobbiamo distruggere Chi le ha avanzate Inchieste giornalistiche documentate Ovvero secondo lo stile del fatto Allusive E intrinsecamente diffamanti Character assassination Notizie Indiscrezioni Rivelazioni mirate A distruggere la reputazione E l'immagine pubblica Di Grillo Di Maio Di Battista Fico Travaglio E scansi È necessario Un investigatore privato Di provata fiducia Allora Teresa Denigrare l'avversario Scavando nella sua vita privata Colpendolo sul personale È un'arma lecita Nella lotta politica È una cosa Terribilmente dannosa Il caso Renzi Capitolo 2 La macchina del fango Stando alle carte Della procura di Firenze Gli uomini di Matteo Renzi Dentro la fondazione Open Avevano intenzione Di mettere in piedi Una sorta di macchina da guerra Per la comunicazione politica Da un lato Organizzando un sistema Di diffusione Dei contenuti di Renzi In rete Sui social Dall'altro Arruolando giornalisti E investigatori Per scovare E diffondere Notizie scomode Sugli avversari politici La bestia renziana Ha agito davvero? Sostanzialmente Oggi si vince Quando si delegittima l'altro Non quando Convinci L'elettorato Convinci L'opinione pubblica Sulle tue argomentazioni A stare dalla tua parte E l'obiettivo oggi è Impedire Al tuo Avversario Di avere ascolto Non è L'obiettivo di Smontare Le sue teorie La sua visione O convincere Le persone a tua volta Esattamente L'obiettivo è vincere Mi colpisce Questa ossessione Per la comunicazione C'è un politico Che è stato premier Segretario del partito Democratico Ha preso il 40% Eppure non ha mandato Al diavolo Un altro giornalista Fabrizio Rondolino Che gli aveva preparato Un appunto Dicendo Dobbiamo Organizzare Campagne Contro gli avversari Assoldiamo Investigatori Privati E l'ossessione Grazie a tutti